buonasera buonasera signori dopo qualche giorno di diciamo di punizione oggi guardate chi mi è venuto a trovare eccolo qua signori sasa sasa lover lover o lovo è mai cambiato un'altra volta lover lover non più love no lover caro caro senti allora com'è si muove il caoce perché su da fare la bella di diretti io e te dobbiamo fare una diretta io e te ma tu puoi dici una cosa io ho pronto appuntamento alla gente proprio tu una volta tenere un raffreddore ma adesso stai raffreddato una volta non puoi usci ma puoi usci pur rimane potremmo fare allora io mi do organizzare domani no perché sabato domani sta in napoli e mi ha già organizzato una forza la sera quando gioca il napoli io non ci sono chi è che sta scrivendo un po a silvia hai subito a beccato silvia vedi silvia ha detto per tu a silvia e ce l'ho pure io a silvia visto come mai mi conosce tu conosci tutti i fan subito stiamo aspettando la questa diretta ah chi è silvia benissimo senti allora facciamo un'improvvisata una cosa così io potete vado a taggare un attimino a te nel frattempo faccio così guarda giro la telecamera e ti vedono poi faccio un'altra cosa mentre tu saluti un pochettino di amici capito allora vediamo un po e dopo faccio una sorpresa a tutti è salvatore si la propria pepe 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 della ragione e lo vedono anche tutti ecco chiocciola pepe pepe della ragione dove sapete della ragione della ecco lo fa vedi ora io quasi una torpezza visto che tutti stanno scrivendo io guarda che c'ho qua io qua c'ho un un microfono wow ha visto c'è un microfono e mo ti faccio facciamo una torpezza un pochettino a tutti va bene io preparo una base e tu vediamo un pochettino cosa riesce a fare a volo ok per tutti i fan di salvatore lover si sente mai mai non ti preoccupare compana cubista vuoi fare una dedica particolare questa qua la dedico a tutte le mie panze vai vai per bocchi sul mio divano di televisione c'è area di festa ma luco luci colorate tu il tema al centro sordisci il tuo cuore occhi neri sorriso tremento il tuo fisico bello da spallo resto quasi fulminato ben simbambolato da tanta bellezza più da pelle di dell'uvo le tulle labbra rosse mi mancano fuori il tuo corpo divino perfetto dare tutto per strigge tappeto ben passato questo già se dentro me cubana cubista l'amora prima vista che bella me gusti mi ha fatti innamorare cubana cubista reggina della pista contatto berenghe oh cia 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 cubana cubista massimo ma guarda compriventi sto correndo da te non so cosa dirò ma stasera che tu sarai falsa di me cosa mi metterò per ballare con te io farò il cubano ballerò con te cubana cubista l'amora prima vista che bella me gusti mi ha fatti innamorare cubana cubista sei tu quella che ho visto ancora più bella vivi innamorare innamorare il soprano è dedicato a tutti i miei fans la grande sasi mamma mia se capite niente quasi sta si sta rovotando tutto facebook non si capisce niente ma ci sono ci sono adesso in diretta sono 26 persone però ci sono un sacco di amici che ti fanno i complimenti c'è silvia che ti manda un sacco di baci c'è no giovanni vicinomini sei grande sal nico massimo ucappiel elevatil dice e vabbè lo puoi anche te come vuoi se ti piace più stare così fai così poi ci sta marilena noviello pur ti dice bravissimo sal achille annuzzi ci sta guardando ma ci sono tanti 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 amici che stanno guardando sal guarda Gianmario marasco sei un grande sasi continua così poi c'è pasquale schiano sempre grande sasi nubia è una ragazza una mia amica che pur ti sta guardando poi c'è massimo max russo questo è un grandissimo operatore video che ha detto mi sembra di stare a starremo complimenti a sasi grazie e poi chi c'è più chi c'è più c'è simona simona california la conosci tu simona scotto eppure sta guardando il video c'è giussi pure sta guardando ma è tanti amici giussi chi è giussi giussi scotto di carlo non so se la conosce abita sempre a via roma e beh pensa che ce l'ho lei pensa che ce l'hai poi c'è della ragione francesco che sta guardando fammi vedere un po' va bene fammi vedere vediamo un pochettino allora giriamo la telecamera guarda un pochettino tu allora ecco qua ci sono un sacco di persone vedi che ti sta scrivendo ha detto pasquale schiano questo fa chiacchiere ma chi ma chi dici pasquale a me o a lui ma non facciamo chiacchiere poi improvvisiamo e facciamo alessio sa quelli lui sa da roma da roma e poi sta guardando questo video guarda c'è mauro mauro questo è un altro mio carissimo amico che sta in america coppola mauro coppola sta guardando dagli stati uniti vedi quante persone hanno scritto alfredo pure sta guardando tanto 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 guarda 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 ragazzi chiedete chiedete una canzone vediamo un pochettino se sale ce la fa un'altra canzone qui dal vivo improvvisatissima dai vici domini giovanni anche gli americani una dedica di americani devi fare vedi a lui giro un attimo nuovamente allora che canzone deve dedicare a qualche americano dimmi tu il brano io te lo trovo vai quella via però non so ma la dobbiamo trovare su youtube io non c'ho il cd qua facebook e tu ce l'hai su facebook sulla tua pagina sta vediamo un pochettino allora nel frattempo saluto un pochettino le persone mentre io lavoro va già tutti i miei fans quanto faccio la diretta qua da domenico gustavo adesso la stiamo facendo un buona diretta dai mica non la stiamo facendo fare più bene però più bene dobbiamo farla meglio allora vediamo un pochettino cosa c'è qual è la canzone tua vediamo un po io non la vedo qua dove sta dove sta sul tuo profilo ci sono un sacco di foto vediamo un poco dove sta dove sta dove sta wow come sei bello dov'è è questo no no nemmeno è questo la già stanno scrivendo e stanno scrivendo un sacco di persone guarda salvato un sacco un sacco un sacco dopo ti faccio leggere però vediamo un pochettino dove trovare il tuo brano che io non trovo più giù ma ma dimmi un pochettino dovuto da 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 quanto tempo che stai facendo un po questi diretti da casa tua da mese di gennaio e stai riscontando un sacco di successo perché c'è un sacco di gente che ormai chiede la tua diretta ormai aspettano pure la sera per vedere che tu vai in diretta è vero hai fatto nuove amicizie noi hai conosciuto nuove persone penso assai assai vediamo un po chi hai conosciuto in questo periodo donne femmine chi hai conosciuto donne c'è qualcuna che che ti ha un pochettino colpito cioè che che ti fa che la pensi un po più delle altre diciamo così io penso a tutte le mie faccia a tutte quante non ce n'è uno in particolare che penso un po di più no no sempre lo stesso sempre la stessa cosa vediamo un attimino non è che sta su youtube la tua canzone lo sa cosa su facebook solo sulla tua pagina io ti vedo che tu mangi che ma queste sono cose vecchie non credo che sei qua facciamo prima un'altra canzone nel frattempo dai cosa vuoi fare dimmi un'altra canzone allora scrivi se sei fatto le lozze è qua salvatore lozze questa qua vogliamo fare facciamo questa allora io ci stavo bene con te io ci stavo bene con te un attimino vediamo allora questa si chiama io ci stavo bene con te questa si chiama io ci stavo bene con te questa qua ci piace al salvia al simbac si chiama non lo dirlo sin da non dirlo e apri i miei panzo per tutti voi io ci stavo bene con te è solo base è solo base canta questa vai vai senti quel bagnone che ti ho regalato senti fretta per quelle scale parliamo da vicino parliamo del nostro amore che questo nostro amore ormai ogni giorno che passa sei sempre più splendida tu sei la mia stella la cosa più bella che mi fa innamorare ogni giorno di più io ci stavo bene con te mi fa innamorare ogni giorno di più io ci stavo bene con te mi fai vivere in una famora e all'introviso questo amore nostro è svanito sento solo non capisco più niente mi sento solo un uomo distrutto 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 tu sei la mia stella la cosa più bella che mi fa innamorare ogni giorno di più tu sei la mia stella la cosa più bella che mi fa innamorare ogni giorno di più tu sei la mia stella la cosa più bella che mi fa innamorare ogni giorno di più tu sei la mia stella la cosa più bella mi fa innamorare ogni giorno di più io ci stavo bene con te per tutte le mie fans io ci stavo bene con te grande sasi mamma mia ma tu sei proprio rinocavo lavoro non si sta capendo niente hai visto quante persone stanno scrivendo? si mamma mia non si capisce niente vieni vieni qua ti faccio vedere un pochettino dalla pagina qua facciamo allora andiamo sulla pagina guarda un po guarda allora guarda 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 quelle persone che stanno scrivendo vedi che vuoi leggere Silvia Silvia bravo Gianluca Parascandro Giovanni ci dormi sal li conosci tutti quanti questi? si vediamo un po che c'è più ma guarda quanto mi piace di quanti cuoricini mamma mia mi ci trovi un giovane che è scritto solo sal solo sal salvatore se continui così ti porto ti porto tu ti porto là e dove ti vuole portare? dove ti vuole portare? è buh Gianmario Marasca questo questo è un malamento questo dove ti vuole portare? è buh è buh è buh eh no questo è un segreto ma mi saprei questo ti vuole portare in qualche posto dove? posto buono e non lo so e lo sai tu perché questo ha detto sempre se continui ti porti in quel posto dove forse è un posto dove si canta va bene allora un posto buono a cantare in sacci cantare faccio manager 2 e ma tu ce l'hai già manager e non è peppe della ragione ci vuole 2 ci vuole due manager dal mentre un lavoro ci vuole rimanagere esagerato allora guarda quanta gente al centro commerciale gianluca parascandolo ti vuole far cantare al centro commerciale gianluca parascandolo al centro commerciale al centro commerciale ma era prima i soldi però al gian mario allora gian ma scusami visto che tu sei seguente ci puoi dire almeno in privato dove lo porti perché lui ha detto che tu lo porti a cantare ma qua mi sa che è una cosa lusca invece si guarda un mito michele matte la vedi che ti scrive sei un altro mio amico non so se è pure amico tuo io conosco a barbaba marie la rovina ok va bene vogliamo fare un'altra canzone no sì dai facciamolo l'ultima e poi salutiamo no ultima canzone ultima canzone dimmi un po chi che vuoi cantare la mia non riesce a trovare no dammi facciamo una cosa di qualche canzone un po più conosciuta conosci qualcosa di not angelo tu di quali altri cantanti oltre a gianni danni salvolatore danni gianni danni vediamo un po gianni danni facciamo molti chicchiati di questa barracca mochiati di questa barracca gianni danni allora gianni scrive già dai la barracca la barracca la no no non si chiama la barracca come no 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 ti faccio la barracca e quale vuoi fare gianni danni si chiama amore locus amore locus qual è questo amore mio no 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 la scrive amore amore locus allora salvatore danni allora ecco qua vediamo un pochettino ok vai ci sei no vedi pure loro detto no no dicono no non ti salutare dai facciamo un altro po una diretta vai e questa è la cosa gli stiamo a fare vai la ho preparato presa per te vai vai non mi piace così mi cora so che un chievo rucio signorita sergamo ehi tirati su balla con me sono listate per favore ai 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 signori la bambolita locca che la musica la dila più che mai ai 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 esco locca porto un seno balla con me non ti fermare mai la gente sta molto locca parla conmico bum bum danza conmico su su se a ti ne gusta bum bum morito per po' danza conmico bum bum parla conmico su su tre la lega per dir in più si è un paradiso parla conmico bum bum parla conmico su su se a ti ne gusta bum bum morito per po' parla conmico bum 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 parla conmico su su se a ti ne gusta bum bum vai vai uh ma dai sulla lista eh tanti vieni vieni buonasera un attimino eh vieni ma dirne lo tu e ti finisci la diretta per un po' di saluti prego saluto a Gianluca Parascandolo a Nicola Mancino e anche a Giovanna Novillo no a Germana Germana saluta a Gianluca grazie ciao ciao allora chi c'è sabato chi c'è sempre le stesse fanze sempre le stesse fanze e pensi che oggi abbiamo raggiunto qualche fanze nuova che non ti conosceva chi è? e non lo so qualcuno ci sta poi vai a casa quando vai a casa ti vedi un'altra volta un po' chi c'era dentro a quelli che hanno seguito li saluti meglio allora che facciamo? ah ecco qua vedi c'è pure Michele Michele ti segui a te Michele sconticovella sempre ciao Michele allora diamo un appuntamento facciamo la settimana prossima va bene per te quando? martedì martedì puoi uscire? lunedì lunedì non ho modo devo organizzarmi atti facciamo martedì ce la fai martedì martedì allora noi stiamo cercando due vallette due ragazze che vengono a farci compagnia durante la diretta noi la diretta la facciamo martedì alle 19 il 7 al 6 tu prima no? che prima? che prima? che prima? che prima? sei eh e roba frica mentre io non c'è? ma facciamo i 7 eh tu vieni prima ci organizziamo alle 19 ok? Michele e schiano tutti quanti persone ci stanno no? stanno assai stanno assai eh eh voglio eh eh qua quando facciamo la diretta martedì si fosse meglio martedì si fosse più buono si fosse meglio martedì gli va andare a rumenica ok? ci fa avrà a bar ti fa sapere a bar eh vabbè non ce l'hai a se è buono sai è bello si è stimato un cappello un cappello non lo può togliere il cappello perché hai i capelli tutto capito? la settimana prossima volevo un cappello qua la settimana prossima bene proprio con il sito fa tutto per bene e tutto cosa allora se ci sono due ragazze che vogliono venire bionda pure bionda bionda una bionda e una bruna una bionda e una bruna due ragazze belle due ragazze due ragazze i ragazzi sono tutte le donne sono tutte belle salvatore tu stanno i donne brutto tutte belle sono tutte belle sono tutte belle hai fatto eh quindi ci contattano in privato a me o a te e possono venire qua in diretta con noi va bene? ok non ci vediamo martedì ore 19 martedì questo martedì ma non cagnano da volte non faccia roba non viene e roba metà minuto in dei burdelli no ma va boh guarda mamma mi guarda che voi soldi chiedici domini giovanni dai Michele Schiano di Cola porta Germana io non la conosco Germana non lo so dici tu devono venire Germana ha detto Michele che viene lui no Michele puoi venire è maschio è maschio mi faccia mettere una bella parrucca è una bella coscia Michele no sicuro ci vuole ci vuole due belle cucubane cucubane quindi non le vuoi più bionde le vuoi brune però piccubane che dici qua? posso fare il valletto? il valletto? no il valletto cioè la femmina è quella lui fa la valletta maschio capito? fa quella che balla vicino a te però maschio no non le vuoi maschio? che bella che lui si fa tutto così vicino a te? no 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 sicuro? si chi c'è più? Umberto Aquilone pur sta guardando io non lo conosco e abbiamo due grazie a quel contatto mio mi conosci un sacco di persone nuove come si e ci sono i bani vengono? si ok in modo particolare poi non vengono come vengono in salta bambone come vogliono loro come vogliono loro va bene ah Edita vedi questa la conosci questa signorina qua? Edita Marzella no questa è un'altra signorina amica amica Emanuele Catalano tutto 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 buonasera ti vedo in forma ha detto che stai bene fa dovantavano cuoricini eh mi ma schiano di cola poi sta guardando mi ma dalle no mi ma dalle e poi vorremmo un po' come mi fai per contattarmi mi ma dalle mi ma dalle su facebook eh ma noi mi fai in modo che chi le t'ha da telefonata da e tu lo facciamo? ora vorremmo un po' ora vediamo un po' Michele schiano di cola sa sa tu fatti il capello mi raccomando ok va bene tiro l'idraulico voglio già lo conosci? no non lo conosci ma c'è Emanuele non lo conosci 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 Emanuele catalano ti è tolto il raffreddore? non lo conosci non lo conosci posso cantare può cantare perché è un artistone quindi la voce c'è ma bu ora ti hanno fatto una prova per vedere la voce come esce? la voce come esce? come esce? a me sembrava buono a te un studio ti piace? dopo organizziamo meglio perché ho delle sorprese delle cose particolari poi e poi ci vuole casse più buone eh sì mettiamo un po' di casse più grandi vai non ti preoccupare poi siamo tutto senza film fatti una cosa professionale sono ciro l'idraulico un grande sei un grande voleva dire forse capito? sì sono solo un grande come la scuola assaggio sì buon fine settimana ti augurato guarda quante persone guarda mamma mia capisci niente? queste sono quelle che stanno vedendo adesso insieme però poi durante prima quante persone abbiamo fatto capito? alla fine Michele Boccia guarda guarda Michele Boccia hai capito chi è Michele Boccia? no Michele Barroso ah ho venuto un saluto a Michele Boccia cioè Michele eh non saluti quando ti offri il caffè? chi non mi offri mai il caffè per Michele? ah no ma è Michele è piacere quando vai in Sasa e poi fai il manager e paga tu offri il caffè eh lina con l'andrea vedi pure sta guardando un'altra ragazza c'è lina beh mamma non si capisce niente se vado qui ci vanno tre telefoni la prossima direi eh un po' ma è vero si vede pure Peppino pure Peppino facciamo la telefonata dopo un numero whatsapp così possono parlare pure oltre a scrivere si ok vedi Michele Boccia ha detto ok Domi il bar è a tua disposizione hai visto? ok allora quando vengono il marzo con un caffè eh vabbè segnatello Michele salvatore canta un po' vogliono che canti un po' che canzone vogliono cantare? vediamo un pochettino dateci voi allora che canzone volete ascoltare? ah salvatore deve essere un altro pochettino con noi e dopo mi chiedo però facci una canzone in diretta vedi voglio un'altra mica ne ha fatte già due due di canzone ho le le la due vedi Pino Lamberti dice grazie per questi momenti caffè pagato lo paga anche lui vedi Pino un altro mio amico che ti paga anche lui il caffè quando va al bar no ha scritto Michele no questo era Pino Lamberti no che è tu qua Michele Scala pensa alla canzone vai vediamo un po' pensa alla canzone io ti trovo la canzone nel frattempo canto che vuoi cantare fammi sentire ma sempre di gianni tania e si trova cantoni un'altra europa ci prepara ma non la vedo qua sopra su facebook su facebook il matronaco schiuprati che salvato questa la conosci stavo bene con te vogliamo fare questa facciamo questo amore mio amore mio allora presenta la vai questa ragione si chiama amore mio la dedico e moglie a dedicare a michele michele boccia perché lo salvatore lover che bello stare con te da fare l'amore con te sembrava volare più in alto Non chiedo nulla di più, la mia fortuna sei tu, sei come un gioco di festa E' cominciata così, sembrava che fosse un gioco, stiamo ancora insieme Il mio domani sei tu, mi fa sentire più forte quando sono con te Amore mio, tu sei dentro di me, sabbi vicino che ho bisogno di te Dalla tua bocca tutti i giorni verrò, il respiro di un angelo Sulle tue lampre all'antendi e nel caffè, vita è svegliare col sapore di te Io voglio amarti tutti i giorni adonarti, tu come nessuno mai Se è come un soffio di vento, un brinito lento, perché non finisce mai Amore mio, trasparente e a te l'amante, che voglia di te Amore mio, sarò un patto perché con tutto il mondo parlo solo di te Se tu lo vuoi, facciamo l'amore, non dirvi no Stacchiamo, stacchiamo, allora C'è anche Andrea, vedi che sta seguendo Andrea, Germano brava, tutti bravi, mamma mia C'era Lina con l'Andrea che non ti conosceva, forse ha detto sei proprio bravo Candi benissimo, grazie Lina Giuseppe Scotto bravissimo Luana Scotto bravissimo, ciao Lina, perfetto E poi vediamo un pochettino Nicola Mancino, chi è Nicola Mancino? Nicola Mancino, a dire Ha detto, se fossi sull'olipurista a fare diretto con lui Eh, portiamolo, ormai, che amma faccia, portiamo tutto qua Vai, sei grande Michele Scotto di Covella, ti scrive Bellissimo, bellissimo Chi sta dicendo, l'idraulica ha scritto, ha nomor operatorio Perché? Eh, non lo so Tony Aloz ha detto, bravo Salvatore, che sorpresa, ciao Domenico Grazie Tony, un bacione pure a te Tu la conosci, Tony? Io la conosco, Tony, una mia amica Andrea Morial ha detto, il tuo cappello è rap È buono, pur giubbino Pur giubbino è rap, pur a felpa Pura magliette Pura magliette, tutto rap, sì, fai pure un gesto alla rap Allora, vediamo un po' qualcosa così, vedi, più yo, yo, yo Rap, Salvatore Rap Bravo, ti voglio bene, mother fuck, Giuseppe Escotto Ciao Giuseppe, si stai provato a fuck Fabrizio Eliano Sei bravissimo, sa sa Egidio Merone Il nuovo, Egidio Merone Egidio Egidio Merone, questo lui non sta qua, ha scritto, il nuovo Gigi Finizio Gigi Finizio lo canti? Non gli piace Gigi Finizio, no, dice sei come Gigi Finizio, capito? Gli piace come canti No, io sono come Gianni Dani Come Gianni Dani, allora scusaci Ok, Gianni Dani so Voglio cantare la canzone a Michele Una canzone a Michele? Michele Boccia Un'altra canzone a Michele A Michele, ok, a Michele E il suo canzone sei grande Vediamo un po', che canzone vuoi cantare? Dimmi Michele Boccia ci piace la canzone di Gianni Dani E ora sono due caffè, dice Michele, vai vai Una toglia, una mecca Nunca, tutte le tre E tutto E tutto in una zona del ragazzurna Taff cùngi la cazzo lei che in 척ano Cun, legami dal giù dal scaldino E di nasi è presto Dispomino, che mi dormina Non mi dormina Non mi no E la città stava a spese ha diventato la rendita è fatta sta difficile sta vita e tu me le vada per me scusa, scusa, scusa ma rimanere male, si tu sei innamorata sono appena vindeciata, quasi mi fidanzata ma rimanere male, con sti telefolata non vedece mai, non vedece mai e dalle quali mi chiede per te ma rimanere male, non vedece mai un'escalte, ma rimanere male e quando la voce spesa ma rimanere male, non vedece mai non mi fai riparare mamma mia mamma mia mamma mia allora quello non guarda dopo facete quante persone federica russo guarda enzo pastore occhiali alla prodi bravo mamma mia quanta gente si capisce niente ci ha fatto了 il corruzzo stai guardando il bravo stai bravo giuseppe scotto ciao giuseppe scotto mamma mia si vede che qui sono qui dalla pagina tua la mia questa una persona sta proprio con papio sì tu tu sai Germana, Germana, Limone, Antonetto, che? Fabola, non voglio vogliare, facciamo tre. Allora, abbiamo appuntamento a martedì alle 19.00. Qua, nel mio negozio. Ho la domenica con un fotogol che me la fa, che fa cadare martedì qua. Mamma mia, i po' hanno un martedì, tutti me d'accordo con i soldi. Qua, cosa, d'accordo? Qua, sei qua. Perchè? Perchè? Qua, quando, se volentieri alle 19? Ok, vai, i soldi, siamo inizio, ed è stato 10.00. I DIA 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 BABEC OEEE C'è I DIA Grazie a tutti.